Il Monte Fuji chiude i battenti. Oggi hanno chiuso il New Zanghetto, ovvero il cancello d'ingresso al monte. O meglio al vulcano, perché questo è il Monte Fuji. E l'hanno chiuso perché la stagione escursionistica del Monte Fuji è ufficialmente conclusa e quindi hanno sbarrato tutti i sentieri di montagna che servono normalmente per raggiungere la cima. Abbiamo già parlato del sovraffollamento e dei rischi della scalata, ma vediamo come è andata quest'anno. E non ci sono buone notizie, perché purtroppo nel 2024 abbiamo registrato un aumento degli incidenti mortali, parliamo più del doppio dei casi. Infatti nel 2022 erano 4, ma quest'anno i morti sono stati 9. Il fatto è che le condizioni meteorologiche che hanno colpito il Monte Fuji sono state estreme, soprattutto l'aumento degli episodi di Guerilla Raio, ovvero le tempeste improvvise con molti fulmini. Solo nel mese scorso, ad esempio, la prefettura di Shizuoka ha registrato oltre 12.000 fulmini, circa il 60% in più rispetto alla media stagionale. E come se non bastasse, nonostante i numerosi avvertimenti, molti escursionisti continuano a sottovalutare i pericoli del Monte Fuji. Sta anche crescendo molto la popolarità delle salite e discese in giornata. Hanno anche un termine specifico, Dangantozan, ovvero ascensioni lampo. E questo ha ulteriormente aggravato la situazione, perché escursionisti con poca o nulla esperienza tentano di raggiungere la vetta ignorando le Yamagoya. Questi sono rifugi utili per ripararsi o riposare. E non sono pochi quelli che li ignorano sottovalutando la situazione e finiscono poi in ipotermia. Sta gente non si informa e non sa che anche in estate le temperature sulla cima del Monte Fuji non superano i 10 gradi. E se magari ha piovuto e sei bagnato e devi ancora fare tutta la discesa per tornare, non rischi solo un raffreddore. Le autorità locali avevano già iniziato a lavorare per ridurre l'afflusso di visitatori. Ma si dovrà spingere anche per un approccio più responsabile alla montagna. Bisogna far capire agli escursionisti che devono adottare misure preventive come l'uso di abbigliamento adeguato ad un luogo in cui le condizioni meteorologiche possono cambiare inaspettatamente e rapidamente. Perché con la montagna non si scherza e qualche accorgimento in più può fare la differenza tra la vita e la morte.